E' una strada solo per l'emergenza o anche dopo l'emergenza si potrà utilizzare per i mezzi pesanti? Questa è una buona domanda, non lo so ancora, decideremo quando avremo un ponte nuovo, a mio cuore dice che probabilmente va tenuta, però vediamo, vedremo, probabilmente la limiteremo magari soltanto alle aziende del posto che sicuramente ne hanno bisogno.